Dopo l'allarme scattato nei giorni scorsi per il livello di inquinamento, la moria di pesci verificatasi il 15 agosto alla foce del fiume Vibrata, Polizia Provinciale d'Arta questa mattina hanno effettuato nuovi prelievi a monti e a valle del depuratore di Alba Villarosa Martinsicuro e all'altezza del ponte che collega il comune Albense con quello di Martinsicuro. I risultati dei prelievi verranno messi a confronto con quelli dei prelievi effettuati il 18 agosto, sotto osservazione anche il funzionamento di tutti gli altri depuratori da Sant'Egidio alla Vibrata fino alla costa, nonché gli impianti fognari. Al momento sono stati individuati tre punti di immissione non regolari e il malfunzionamento di due impianti di depurazione. I risultati delle indagini di Polizia Provinciale d'Arta saranno trasmessi alla magistratura. Per il 30 agosto intanto la provincia di Teramo, per iniziativa degli assessori Francesco Marconi e Renato Rasicci, ha convocato un tavolo di lavoro con i sindaci della Val Vibrata, Ato e Ruzzoreti. Alla riunione parteciperà anche il presidente Walter Catarra. Particolarmente grave, secondo il vicepresidente Rasicci, il danno d'immagine per la provincia teramana. Un episodio circoscritto rischia di venificare gli sforzi delle istituzioni e degli operatori privati per rilanciare il turismo dopo la stagione del terremoto. Anche per questo tutti devono fare uno sforzo di chiarezza, trasparenza e correttezza in maniera da non disorientare i turisti e da fornire informazioni corrette ai cittadini. Grazie a tutti. Grazie a tutti.